Secondo atto dei fantasmi del passato, la protesta silenziosa che da due settimane sta caratterizzando i fine settimana della città di Catania. Niente soluzioni, solo restrizioni. E' lo striscione che ieri pomeriggio campeggiava in un altro luogo simbolo del capologo etneo, ovvero piazza San Domenico, dove si affacciano sia la sede locale della regione siciliana sia l'ASP, i due poteri ai quali si rivolge il grido di ristoratori, partite IVA, titolari di palestre e bar, scesi ancora una volta in strada con maschere e tute bianche. Un grido spettrale perché sentono di essere ormai diventati spettri senza diritti, senza libertà, senza lavoro. Le modalità della protesta di ieri sono state le stesse di due venerdì fa, un presidio statico e silenzioso con cui i fantasmi rivendicano la volontà di tornare alla vita, come mostrano le immagini di Catania creativa. Ad attendere i manifestanti c'era un dispiego di forze dell'ordine eccezionale, nonostante non si siano registrati nel primo evento episodi da richiederne una così massiccia presenza, ma i fantasmi del passato hanno comunque potuto esprimere tutto il proprio dissenso e malessere con striscioni, cartelli e volantini. Non possiamo più stare a sentire le promesse che ci rimbalzano di giorno in giorno, dicono i manifestanti. Chiediamo la riapertura immediata di tutte le attività con le dovute misure di sicurezza, l'annullamento di qualsiasi norma che leda libertà individuali, sancitea la Costituzione, fantasmi del passato, ritorniamo alla vita. Grazie a tutti.